Buongiorno, Domenico Giordano della Giordano Broker's Quest. Oggi iniziamo la nostra vista alla fiera PIR, perché avesse interesse PIR.ru, la fiera dedicata alla ristorazione più famosa della Russia. Ci sono molti visitatori, come vedete. Amici che sono stati ieri mi hanno detto che la presenza anche degli espositori è importante, ma andiamo a curiosare e vi aggiorniamo a breve. Arrivederci.